Io sono Pippa Man, per il mio cavalluccio marino, insieme andremo verso la caccia dei catturi. Da qui è tutto e qui ecco la nuova amante di Pippa Man. Adesso riprendiamo l'economia di San Francino. Aspetta, riprendimi che vado in mezzo a strada. Sottofondo. Ma vuoi morire? Ale sta cercando in mezzo alla strada di... Ma non fate quello con l'ape? Io sono Pippa Man e dirigo anche il Dillard. L'economia della città. Ecco qui l'ape tuning. La signora ha detto che fai il coglione. Guarda, grazie, ha detto che fai il coglione. Ho detto che fai il coglione. Io va io ho... Grazie.